e bentornato sul mio canale oggi ufficialmente ha parlato di agomotta perché ufficialmente perché già aveva parlato dall'allenatore della juve durante il suo primo giorno di canali social per oggi abbiamo sentito rispondere alle domande domande dirette ma risposte anche dirette che poi parlerò di alcuni giornalisti che erano presenti ma voi mi raccomando continuate a supportarci con il mi piace commenta l'iscrizione per ogni altra cosa vi raccomando dobbiamo fare diventare questo canale grande perché questo è un canale libero in questo canale esistono due regole educazione e rispetto se noi riusciamo a mantenere queste due regole possiamo farà differenza perché in questo canale si parla di tutto in modo positivo e negativo perché non siamo servi di nessuno e vi raccomando supportateci con il mi piace commenta l'iscrizione abbiamo anche un secondo canale di one tv extra che li parliamo di tutto tranne che di calcio e abbiamo dei contenuti social tutto quello che creiamo è creato da noi allora c'è stata la conferenza stampa prima di tutto hanno parlato prima a scaravino e dopo giuntoli e poi ha parlato di augomotta cosa ha detto a scaravino ha presentato il nuovo organigramma della juve e cosa ha detto che oltre ai nuovi arrivi pompili stefanelli e bravati ha diviso tutti i settori dello sport e il capo assoluto dell'area sport nell'ambito maschile e cristiano giuntoli al di sopra di cristiano giuntoli ci sono solo scaravino ferrero e gianel e basta poi ha presentato l'organigramma del calcio femminile e quello della primavera ha presentato il nuovo ha detto che il nuovo allenatore della next gen paolo montero della dell'anno 19 e l'ex preparatore che era la juve non mi ricordo come si chiama però avete capito di chi si chiama maglianelli non mi veniva in mente perché non mi veniva un altro nome però ha presentato tutto l'organigramma poi ha parlato giuntoli e giustamente cosa ha detto giuntoli che non ci sono fuori rosa perché in questi giorni si erano parlato tanto di fuori rosa perché anche qualche giornalaio qualche direttore di un giornale romano cominciava ad attaccare giuntoli che non riusciva a vendere i fuori i fuori rosa io capisco che le vedove di allegri perché oggi in questa conferenza stampa c'erano ancora le vedove di allegri in questa conferenza stampa c'erano giornalisti che sono vedove di allegri e vi raccomando perché quello che ha detto scanavino cosa ha detto scanavino che l'obiettivo minimo non torniamo a dire l'obiettivo minimo è arrivare nei primi quattro non è l'obiettivo massimo come alcune vedove di allegri lo stesso allegri lo scorso anno ci volevano fare credere ha detto l'obiettivo minimo è andare in cemps poi c'è l'obiettivo massimo è quello della vittoria ma se ti dice che l'obiettivo minimo è arrivare nei primi quattro è tanta tanta roba e ha detto una cosa ben importante possiamo dire che dopo cinque anni le strade che già si parlava ieri sera si sentiva ieri sera ma oggi giunto l'ha ringraziato Adrian Rabiot Adrian Rabiot non farà più parte della Juve dopo cinque anni è giusto dividere le strade qualcuno ha detto che Rabiot non ha voluto rinnovare altri hanno detto sì ora vediamo dove andrà Rabiot perché se Rabiot andrà al Mila per 6 milioni bravo lui e poi andrà al Mila per 8 8 milioni e mezzo vuol dire che l'offerta fatta dalla Juve non è regalita al giocatore tutto dove fermerà e per quale cinema fermerà si saprà la verità però dopo cinque anni Allegri no Allegri e Rabiot non fa più parte della Juve tra molto molto parlato di un club ambizioso che l'acco che la convive che deve essere una Juve che quando esce dal campo deve deve essere soddisfatta perché vuol dire che ha fatto tutto quello che doveva fare lui vuole dei centrocampisti totali i centrocampisti che sanno fare tutto perché ha detto una cosa abbastanza importante cosa ha detto Tiago Motta che ci sono pochi giocatori al mondo che sono eccezionali in quel ruolo perché cosa volevo dire per esempio Andrea Pirlo che secondo me è uno dei dei registi più forti in assoluto al mondo faceva quello là e lo faceva in modo assoluto in modo assoluto non lo potevi mettere a difendere o ad attaccare tu ad apirlo lo deve solo fare il regista e lo deve lasciare in quel ruolo invece lui essendo che come ha detto lui ci sono pochi al mondo giocatori che sono fenomeni soli in un solo ruolo lui vuole centrocampisti che fanno tutto ha parlato di Vlaovic che ha detto che è un giocatore fondamentale però non può fare tutto Vlaovic perché ci deve essere pure una squadra che l'aiuti ha parlato di Caprienturam ha parlato di tutti i giocatori giovani e hanno fatto anche la domanda di Coppomayers e lui saggiamente cosa ha risposto io non parlo dei giocatori che non sono miei perché a oggi noi Coppomayers lo possiamo dire sia alla Juve tutto quello che volete però oggi Coppomayers sono giocatori dell'Atalanta e Tiago Motta ha fatto bene ha parlato anche di Federico Chiesa ha detto che anche lui è importante ma sappiamo benissimo che Federico Chiesa a oggi è fuori dal progetto però qualcuno si aspettava che oggi arrivava arrivava Giuntoli arrivava Tiago Motta e diceva Artur fuori dal progetto, McKennie fuori dal progetto, Cernick fuori dal progetto, Sule fuori dal progetto ma davvero credevate che qualcuno che oggi venivano col foglio dicendo tu sei dentro e tu sei fuori no, giustamente ha detto tutti fanno parte del progetto ed è molto entusiasmo di Hildiz che l'ha visto lui ha detto che l'ha visto qualche giorno fa è un giocatore fantastico che può fare tutto quanto che tu lo puoi mettere al centro in attacco e può fare tutto quanto e la Juve sul talento turco ci punta tanto perché a oggi sacrifica Sule per puntare su Hildiz sacrifica Sule per portare soldi e puntare su Hildiz a proposito di Sule ha detto a oggi si sta allenando alla grande a oggi è un giocatore della Juve, a oggi è un nostro giocatore poi in futuro vedremo ma io sono contento di tutti i giocatori che ho giustamente come ha detto Giuntoli il loro obiettivo qual è? riuscire a portare un giocatore per ogni ruolo allora serve ancora un difensore, serve ancora un centrocampista e serve ancora un altro attaccante soprattutto se a oggi come si dice Milik e altri giocatori non fanno parte del progetto poi ha parlato anche di Douglas Luiz grande giocatore, gran lavoro per portarlo qui fa parte della nazionale brasiliana stagione importante riuscendo a portare la Stonevilla insieme ai suoi compagni in Champions è perché nessuno dava un centesimo che la Stonevilla potesse andare in Champions ha giocato da tutte le partite, ha fatto gol un giocatore completo che può giocare in qualunque ruolo poi dipende in alcune partite può giocare anche in difesa signori, Giuntolo Tiago Motta è uno che non è schiavo dei moduli però sa bene che deve adattare il suo giocatore ogni giocatore nel proprio ruolo poi ha parlato dei 20 punti di stacco dall'Inter e ha detto una cosa davvero importante quello è il passato signori, l'Inter lo scorso anno aveva finito dietro al Napoli di quasi 30 punti non è che ha fatto una campagna acquista eccezionale ha preso Turam però i giocatori sono cresciuti la mentalità è cresciuta l'unico giocatore di rilievo che ha preso sono frattesi però non giocava neanche titolare e ha preso Turam ha preso Sommer però non erano giocatori che tu dicevi potevano superare facilmente 30 punti e come ha detto Tiago qual è il passato? noi dobbiamo guardare il futuro una nuova stagione chi ti dice che oggi ci sono i 20 punti di stacco dall'Inter così come ha detto che lui vuole dei giocatori vuole una rosa di 22-23 giocatori che possono essere titolari però è fondamentale la next gen perché è fondamentale che dei troppi impegni stagionali possiamo andare a prendere giocatori dalla seconda squadra ed è una cosa importante poi l'ultima cosa di Adic come si chiama lui lo impareremo perché è un giocatore davvero davvero interessante lui non guarda l'età però è un giocatore che a oggi può avere anche una possibilità di restare in prima squadra signore a me Tiago Motta mi ha emozionato è stato concreto ha parlato solo dei giocatori suoi non ha parlato di futuro arrivi riabbiò ufficialmente non fa più parte della Juve Giunto le ha detto che è ancora il mercato è aperto e vuole fare un colpo per ogni reparto questa Juve è nata e ne è nata nel piede giusto perché come ha detto Tiago Motta è arrivato il momento giusto perché è pronta una rivoluzione voi iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima Musica Grazie a tutti.